Visita allo stir questa notte da parte del comitato Battipaglia dice no. Alla base del sopralluogo i cattivi odori che infestano la zona e la presenza di numerosi camion. A testimonianza, secondo i membri del comitato, di un'attività notturna dell'impianto. Siamo davanti allo stir, siamo venuti per capire i cattivi odori, per non dire la puzza esagerata che sentiamo tutte le notti da dove proviene. E come potete vedere siamo abbastanza attrezzati per cercare di respirare al meglio qui. Abbiamo fatto il giro anche da dietro al sito di compostaggio e devo dire che tra lo stile del sito di compostaggio siamo messi veramente benissimo. Abbiamo visto un camion uscire a quest'ora, è quasi mezzanotte, per cui pensiamo che ci sia comunque un movimento notturno a noi sconosciuto.